L'agenda digitale italiana è un'iniziativa legata all'agenda digitale europea che il nostro Paese dovrà sfruttare al meglio per riuscire a colmare tutta una serie di gap e per creare le condizioni affinché ci sia una vera chiave verso lo sviluppo attraverso l'economia digitale. Questa è una grande occasione per tanti temi e uno di questi è sicuramente la sicurezza. La sicurezza informatica in Italia sconta alcuni ritardi storici. Noi siamo uno dei pochi Paesi che non ha ancora una cyber strategy, non ha ancora un certo nazionale. Le riflessioni che si stanno facendo all'interno delle varie iniziative, dei vari temi legati all'agenda digitale stanno portando a maturazione alcuni di questi temi. In particolare sul CERT nazionale si sono fatte delle serie riflessioni e ci sono alcuni punti che sono stati affrontati e che probabilmente dovrebbero riuscire ad essere raggiunti poi nello sviluppo e nella pubblicazione del Digitalia. L'occasione è ghiotta, speriamo di non farcela sfuggire perché è un'occasione che porterebbe a abilitare l'Italia e a competere in maniera uguale rispetto agli altri Paesi europei che si stanno muovendo in maniera molto seria e coordinata su questi temi.